Continua l'emergenza maltempo negli Stati Uniti. È passato poco più di un mese da quando le immagini delle cascate del Niagara congelate hanno fatto il giro del mondo. In principio era Hercules, la tempesta di neve, che ha colpito gli Stati Uniti i primi di gennaio. Poi è arrivato il Polar Vortex, l'ondata di gelo polare abbattutasi sugli stati della costa nord-orientale. Non si registravano temperature così basse da oltre 30 anni, ma il Polar Blast, la nuova ondata di maltempo che in questi giorni sta piegando l'America, ha fatto abbassare ancora di più la colonina di mercurio. Gli Stati del Sud, Mississippi, Georgia, Alabama e Carolina del Sud, tra i più colpiti, sono sepolti da 48 ore sotto un manto di neve alto almeno 40 centimetri. Sono migliaia degli automobilisti bloccati sull'autostrada, più di 11 le vittime di incidenti. Paralizzato anche il traffico aereo con circa 4.000 voli cancellati. In Georgia e South Carolina, oltre mezzo milione di case e aziende sono rimaste senza luce a causa dei continui blackout. Ma la situazione più critica si registra nella Carolina del Nord, dove migliaia di persone, intrappolate in un enorme ingorgo stradale, sono state costrette ad abbandonare l'auto in mezzo alle careggiate. Nelle prossime ore l'ondata di maltempo si sposterà verso nord-est, interessando soprattutto i territori di Boston, Washington e New York. Nella Grande Mela è già cominciata la pioggia dei ghiaccioli, i pezzi di ghiaccio che si staccano dai grattacieli e precipitano in strada. E gli edifici più alti della città sono stati messi in sicurezza.